Benvenuti in questo video emozionante in cui esploreremo una trama avvincente e piena di suspense. Siete pronti a immergervi in una storia avvincente, fatta di personaggi complessi e di drammatici colpi di scena? Allora, preparatevi a scoprire come le vite intrecciate dei protagonisti prendono una piega inaspettata, portando con sé segreti, emozioni e decisioni che cambieranno tutto. Non dimenticate di mettere in pausa il mondo esterno e di prepararvi per un'esperienza coinvolgente. Mentre esploreremo i dettagli di questa avvincente storia e i destini intrecciati dei suoi personaggi principali, stiamo parlando di My Home, My Destiny, e le anticipazioni del 25 e del 26 ottobre presentano una svolta drammatica con il rapimento di Zeynep da parte di Medi. A casa, Cemile è tormentata dalla crescente preoccupazione per suo fratello, mentre Nu cerca di consolarla e infonderle speranza. La confusione su come Medi sia finito in questa situazione persiste, e Cemile implora Nudi aiutarla. Dopo aver perso Mujgan, la prospettiva di perdere anche Medi è insopportabile per lei. Tuttavia, la conversazione viene bruscamente interrotta dall'arrivo di Benal, che ignora completamente i problemi di Medi. Benal si presenta a casa di Cemile in cerca di aiuto, spiegando che la sua gravidanza sta diventando più complicata del previsto. Le ultime settimane di gestazione richiedono riposo assoluto, e non avendo nessun altro a cui rivolgersi, ha deciso di chiedere aiuto a Cemile, l'unica persona in cui ha fiducia rimasta. Cemile, non pronta a rivelare la situazione di suo fratello a Benal, decide comunque di ospitarla e prendersi cura di lei in questo momento delicato. Benal condivide con Cemile la sua profonda tristezza per la tragica perdita di Mujgan e annuncia il suo desiderio di chiamare sua figlia in onore della sua amata sorella. Un gesto toccante per rendere omaggio a colei che l'ha sempre sostenuta. Nel frattempo, Zeynep cerca di dare conforto e aiuto a Baris, riconoscendo quanto lui l'abbia sostenuta nel corso del tempo. Spinta dal desiderio di contribuire al miglioramento della situazione familiare di Baris, propone di tornare a casa sua e cercare di ristabilire un legame con il suo turbolento fratello, Savas. Baris, sebbene preoccupato per la reazione di Savas alla presenza di Zeynep, alla fine acconsente all'idea, riconoscendo che è giunto il momento di tentare di sistemare le cose. Insieme si dirigono verso la casa di Baris, con la speranza di ristabilire un legame fraterno che si è deteriorato nel corso degli anni. Nel frattempo, Mehdi, in cerca di aiuto e sostegno in un momento di difficoltà, fa visita a casa di Nasli, cercando consolazione e un rifugio nelle sue braccia. Mehdi, in una situazione finanziaria disperata, si rivolge a Nasli, chiedendole dei soldi. Afferma che, scappando dalla polizia, ha dovuto lasciare tutto dietro di sé nel suo negozio. Nasli, dimostrando la sua bontà d'animo, accetta prontamente di fornirgli i fondi di cui ha bisogno e lo esorta a lasciar perdere Zeynep, sostenendo che proprio quella donna sarà la sua rovina. Tuttavia, Mehdi rimane saldamente convinto delle sue intenzioni e, una volta ottenuti i soldi, se ne va, determinato a portare avanti il suo piano nonostante gli avvertimenti di Nasli. Tornati a casa di Baris, Zeynep ha già elaborato un piano per avvicinarsi a Savas. Con audacia, si introduce nella sua camera, fingendo di farlo all'insaputa di Baris. Savas reagisce con furia, cercando di allontanarla e chiamando a gran voce suo fratello per cacciarla. Tuttavia, la calma e la tranquillità di Zeynep inducono Savas a calmarsi gradualmente. Dopo le prime divergenze, Zeynep condivide con lui la sua situazione, spiegandogli che sta scappando dal suo ex marito e che ha trovato rifugio nella casa di Baris, grazie all'aiuto di quest'ultimo. In breve tempo, Zeynep riesce a convincere Savas della necessità di avere un nascondiglio sicuro, e gli spiega che la sua camera sarebbe l'ideale, dato che il suo atteggiamento diffidente lo ha tenuto distante dagli altri. Savas sembra gradualmente tranquillizzarsi e inizia a chiedere sempre più dettagli sulla situazione di Zeynep. Così, Zeynep inizia a condividere la sua storia, racconta della sua infanzia, della complessità di avere due madri, del costante senso di inadeguatezza che ha sempre avuto, e di come Baris l'abbia aiutata in momenti difficili. Questi racconti intrecciati permettono a Zeynep e Savas di trovare una connessione profonda, e Savas dimostra preoccupazione per la situazione di Zeynep, invitandola a stare il più lontano possibile dal suo ex marito. Trascorrendo del tempo insieme, Zeynep riesce a calmare le ansie di Savas e il loro dialogo risuona nell'ascolto attento di Baris, che è rimasto nascosto dietro la porta della stanza. Grazie alla sua empatia e al suo nuovo ottimismo, Zeynep non solo tranquillizza Savas ma riesce anche a fargli abbassare le difese, lasciando Baris piacevolmente sorpreso dalla profondità del loro legame che si sta sviluppando. Nel frattempo, a casa di Zeynep, Sakine continua a cercare di convincere Nermin a rivelarle dove si trovi sua figlia. Sapendo che la figlia è in compagnia di Baris, Sakine è sempre più agitata, sia per il fatto che sua figlia stia trascorrendo del tempo con un uomo a tarda serata, che per le possibili conseguenze che questo potrebbe avere sulla relazione tra lei e Medi. La discussione a casa di Zeynep coinvolge anche Sultan, che cerca di tranquillizzare Sakine, e Emine, che elogia Baris come un ottimo partito per Zeynep. Nonostante i tentativi di giustificare Medi, Nermin arriva a un punto in cui non può più tollerare l'atteggiamento di Sakine. Le suggerisce di guardare il video in cui Medi distrugge l'auto di Zeynep. Forse Sakine non si è ancora resa conto della vera natura di Medi, ma dopo aver visto il video, Nermin spera che possa cambiare idea e smettere di dare priorità al matrimonio di sua figlia invece della sua sicurezza. Nel frattempo, a casa di Baris, l'incontro tra Zeynep e Savash sembra procedere molto bene. Zeynep riesce persino a convincerlo a cenare insieme a loro. Baris, seguendo il consiglio di Zeynep, organizza un barbecue in giardino per poter passare del tempo all'aria aperta con Savash. Sakine, infine, decide di guardare il video che le ha dato Nermin. Inizialmente aveva minimizzato il gesto di Medi, attribuendolo a un semplice scatto d'ira contro un'auto. Ma quando Sakine guarda il video, rimane completamente sconvolta dalla violenza e dall'aggressività di Medi. La rabbia viscerale di Medi nei confronti dell'auto di sua figlia, la ferocia con cui ha distrutto ogni cosa, induce finalmente Sakine a riflettere su cosa Medi potrebbe effettivamente fare alla propria figlia. Sconvolta e distrutta, si lascia andare a un pianto isterico, maledicendosi per non aver compreso prima il pericolo a cui aveva esposto la figlia, incoraggiando Medi nelle sue insistenze e nella condiscendenza per cercare di riconquistare Zeynep. Nel frattempo, la cena a casa di Baris procede senza intoppi. Zeynep riesce a mettere a proprio agio tutti, compreso Savas, tanto da convincerlo a prendere le medicine che aveva rifiutato per giorni. La presenza di Zeynep a casa di Baris ha riportato la serenità, almeno per una sera, e ha iniziato a riavvicinare i due fratelli. Tuttavia, a casa di Medi, l'ansia di Cemile viene ulteriormente accresciuta da un evento inaspettato. La finestra della casa viene rotta da un sasso scagliato da qualcuno. Corrono fuori, e Cemile e non scoprono che l'autrice di questo atto è Sakine. La situazione si fa sempre più complicata e tesa, mentre la verità su Medi e la preoccupazione per Zeynep stanno portando a delle decisioni e azioni inaspettate da parte di tutti i personaggi coinvolti. Sakine, dopo aver visto il video della furia di Medi contro l'auto di Zeynep, si presenta a casa di Medi, sperando di trovarlo lì per affrontarlo. Una Cemile sconvolta inizia a urlare contro un'altrettanto sconvolta e arrabbiata Sakine. La mamma di Zeynep ha finalmente realizzato di aver sbagliato nel proteggere e giustificare Medi e ora desidera affrontarlo e ricevere spiegazioni da lui. Nu cerca di tranquillizzare le donne, ma con risultati scarsi. Sakine intima i due di dire a Medi di non avvicinarsi mai più a sua figlia prima di andarsene. Byram assiste alla scena e, dopo che Sakine se ne va, la segue, scusandosi con Cemile e Nu. Una volta rientrati in casa, Nu e Cemile rimangono sconvolti quando scoprono che Medi si nasconde al buio. Immediatamente cercano di convincerlo a costituirsi alla polizia, sperando di risolvere la situazione rapidamente e senza peggiorare la sua posizione. La situazione si fa sempre più tesa e complicata, e il futuro di Medi pende in bilico mentre si confronta con le conseguenze delle sue azioni. Medi, nonostante tutto, è ancora convinto di poter rintracciare Zeynep e spiegarle le sue ragioni. Cemile è sicura di poter convincere suo fratello a ragionare, quindi lo lascia andare da solo in bagno per un attimo. Mentre sono soli, Nu cerca di persuadere sua moglie a chiamare la polizia, cercando anche di farle comprendere che è ormai impossibile far ragionare Medi. Nel frattempo, Medi si è rinchiuso nel bagno e Nu capisce immediatamente che potrebbe essere fuggito di nuovo. La sua preoccupazione viene confermata quando sfonda la porta del bagno e scopre la finestra aperta, da cui Medi è effettivamente scappato. Sakine e Byram si fermano in un parco per conversare. Qui, la donna si apre sinceramente con il marito. Ha sempre incolpato lui per le loro sventure, ma si rende conto che è colpevole quanto lui. Ha scelto un uomo cattivo e pieno di vizi come padre dei suoi figli, e non lo ha lasciato quando avrebbe dovuto. Questa scelta ha effettivamente distrutto la sua famiglia, rendendo i suoi figli infelici e causando la perdita del loro affetto. La conversazione tra Sakine e Byram è carica di riflessioni e rimpianti mentre affrontano la dura realtà dei loro errori passati. L'atteggiamento remissivo di Sakine verso gli uomini violenti l'aveva portata a credere che Medi fosse l'uomo giusto per Zeynep. E così aveva affidato la sua unica figlia rimasta a un uomo che non aveva mai conosciuto, scoprendo invece che costituiva un serio pericolo per lei. Dopo aver visto quel video, Sakine aveva riconosciuto la stessa rabbia nel volto di Medi che aveva visto in passato nel volto di Byram quando lui la picchiava, insieme ai suoi figli. Questo ha segnato un momento di svolta per Sakine. Era giunto il momento di porre fine alla sua fiducia cieca e alla giustificazione degli uomini violenti. Ora si sentiva determinata a proteggere sua figlia con tutte le sue forze e a rinunciare all'atteggiamento vittimistico e codardo che aveva dimostrato in passato. Nel frattempo, a casa di Baris, l'uomo esprime ancora preoccupazione per la sicurezza di Zeynep e decidono di trascorrere la notte insieme svegli, temendo che Medi potesse ancora rintracciarla. Decidono così di accomodarsi in salotto per guardare un film e restare allerta. Sakine torna finalmente a casa, dove trova Nermin. La loro conversazione è carica di tensione, poiché Sakine riflette sulle sue scelte passate e sulle azioni che deve intraprendere per proteggere Zeynep e porre fine all'atteggiamento sottomesso che aveva mantenuto fino a quel momento. Il confronto tra Sakine e Nermin segna un momento di svolta in cui finalmente riescono a comunicare pacificamente ed empaticamente. Sakine ha ormai compreso i suoi errori e ammette che Nermin aveva sempre ragione. Spiega che il suo desiderio era sempre stato quello di proteggere Zeynep. Pensava che, amando sinceramente Medi, fosse giusto che lui e Zeynep rimanessero insieme per evitare che la figlia soffrisse per la separazione dall'uomo che amava. Tuttavia, ora ha finalmente realizzato che nonostante l'amore che li legava, Medi rappresentava un reale pericolo per Zeynep. Le due donne parlano anche della vita di Sakine, delle sue esperienze personali che l'hanno portata a credere fortemente nell'importanza degli uomini nella vita di una donna. Sakine racconta dell'eccezionale esempio paterno che ha avuto, sottolineando come suo padre, nonostante la povertà in cui vivevano, si sia sempre sacrificato per il bene della famiglia. Questa esperienza l'aveva portata a credere che un padre di famiglia fosse sinceramente interessato a sostenere la sua famiglia. Questo errore l'aveva portata a sperare che anche Bayram, fino alla fine, avrebbe potuto prendersi cura di lei e dei suoi figli, e aveva commesso lo stesso errore anche con Medi, pensando che fosse un uomo responsabile e onesto. La conversazione tra Sakine e Nermin è un momento di profonda comprensione reciproca e di autoriflessione, in cui Sakine inizia a mettere in discussione le sue convinzioni passate e a riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti degli uomini. Nermin, in questo momento cruciale, si mostra solidale con Sakine e le offre il suo pieno sostegno. Le propone di rimanere unite per proteggere e garantire la felicità di Zeynep, la loro figlia, che ha più che mai bisogno del sostegno di entrambe. È un momento di riconciliazione e di determinazione per affrontare insieme le sfide che si presentano. Nel frattempo, Zeynep e Baris trascorrono una piacevole serata, tranquilla e serena. Baris riceve una chiamata dalla sorella, e Zeynep si sposta in cucina per preparare dei caffè. Tutto sembra normale e sereno, finché Medi appare improvvisamente dall'ombra. Zeynep rimane immobilizzata dalla sorpresa e non ha nemmeno il tempo di chiamare Baris, perché Medi la blocca e le preme un panno bagnato con del tranquillante per immobilizzarla e farla tacere. Zeynep sviene tra le braccia di Medi, che si scusa con lei, ma che ha ormai messo in atto il suo piano. Sembra proprio che Medi stia rapendo Zeynep. La situazione si fa sempre più critica e tesa, con il destino di Zeynep appeso a un filo. Grazie per averci accompagnato in questa avventura narrativa. Speriamo che la storia vi abbia emozionato e intrigato quanto ci ha affascinato nel narrarla. Le vite dei personaggi, le loro scelte e i loro conflitti ci mostrano quanto la narrativa possa catturarci e farci riflettere sulla complessità delle relazioni umane. Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri e commenti sulla storia. E se desiderate ulteriori dettagli o un seguito, fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su questa storia e narrazione coinvolgente. Grazie ancora per essere stati con noi, vi aspettiamo al prossimo video!